L'estate 2022 segnerà finalmente il ritorno alla normalità anche al mare, visto che non si prevedono particolari restrizioni per i lidi. Ma in Abruzzo almeno per il momento non è così, visto che ad oggi rimangono ancora le disposizioni restrittive anti-Covid. Questo perché nell'ordinanza balneare regionale del 24 marzo sono rimaste invariate alcune misure di contenimento virus, una condizione su cui le associazioni di categoria hanno annunciato di essere pronte a intraprendere anche azioni legali, volte ad ottenere un allentamento delle misure restrittive, che risultino conformi alle nuove linee guida pubblicate dal Ministero della Salute in vista della stagione balneare. La Regione Abruzzo ha messo la consueta ordinanza regionale per quello che riguarda la balneazione, che riguarda soprattutto gli stabilimenti balneari, e ha confermato in realtà tutte quelle che erano le restrizioni Covid degli anni precedenti. Quindi andiamo sia dalla distanza minima fra gli ombrelloni, ma anche in teoria l'accesso con mascherina allo stabilimento, l'accesso alla spiaggia con mascherina fino all'ombrellone e il tracciamento dei clienti. È un po' assurdo perché comunque nei locali equivalenti, come un bar o un albergo, si può muovere molto più liberamente rispetto agli altri anni. Quindi ci aspettiamo, e in tal senso ci stiamo interfacciando con i dirigenti della Regione, ci aspettiamo una rettifica dell'ordinanza, anche se è il limite mortis ormai, perché comunque molte spiagge sono state già impiantate. Ma non è solamente l'unica cosa assurda che voi avete definito così? No, c'è stato un comunicato del Codacons settimana scorsa sull'onda delle notizie nazionali che dicevano, e ripetiamo, in Abruzzo non è così, che dicevano che gli ombrelloni potevano essere messi a distanze ravvicinate, quindi secondo loro aumentava il numero degli ombrelloni e quindi si sarebbe dovuto abbassare il prezzo. Ora, io non credo che il Codacons viva fuori dalla realtà, però onestamente l'affermazione mi sembra fuori dalla realtà, perché vista la situazione inflazionistica, visto che i canoni sono aumentati dell'8% in un mese, visto che il costo delle bollette energetiche, vi assicuro che quelle degli stabilimenti sono molto alte, è schizzato del 30-40%, sicuramente non ci saranno diminuzioni di prezzo, piuttosto forse ci sarà qualche piccolo contenuto aumento e sarà contenuto soltanto perché i balneari giustamente vogliono favorire la loro clientela perché è la clientela che li fa lavorare.